Gentili tre spettatori, buona giornata. Pensavo di aver perso ieri la puntata di Piazza Pulita con Formigli, non perché io sia fans, è la seconda volta che vedo questo programma. Un programma di sinistra, un conduttore di sinistra, la maggioranza degli ospiti è sempre di sinistra, fan page di sinistra, un'inchiesta contro i partiti di centrodestra. Questo è un classico quadretto familiare italiano, la stampa che si adopera per aiutare una sinistra che non ce la fa le urne e quindi una stampa paladina di un'area politica inconsistente, cerca di portare voti come distruggendo gli altri. Quindi un'inchiesta giornalistica che è una vera e propria istigazione, che però legittima, è stata fatta nel rispetto della legalità, perché l'hanno studiata bene, hanno fatto tutto sapendo che potevano farlo. Hanno fatto il loro lavoro, però contro la destra non la fanno? Sì, sì, ma hanno fatto il loro lavoro. Hanno beccato delle situazioni che tutti potevano immaginare, nel senso non ci vuole molto immaginare che nella periferia di un partito come Fratelli d'Italia, che all'interno del suo simbolo ha la fiamma tricolore del movimento sociale italiano. Non ci vuole un genio della lampada e secondo me non ci vuole nemmeno tre o cinque anni di infiltrati per capire che nella periferia di un partito diventato così grande ci possano essere i classici nostalgici, quelli che vanno a predappio, in pellegrinaggio, a comprarsi la maglietta o il souvenir. Eh sì, dove volete, parliamoci chiaro, i nostalgici. Secondo voi per quale partito votano? Per la sinistra, per il PD, per Calenda? Non raccontiamoci le storie di Babbo Natale, però si scopre che alla fine questi gruppi di nostalgici che sopravvivono al tempo non sono solo nella periferia di Fratelli d'Italia, ma li troviamo anche nella periferia della Lega. Cioè come? Un nostalgico imperialista che vota un partito ex secessionista, che dicevano di non essere italiani, che Padania is not Italy, io ci metterei anche off maio di Gigino. Insomma, non ha senso. Come? Un nostalgico che vota un partito che non riconosceva l'Italia come patria è una roba, è un'antitesi? Ma si scopre da questa seconda puntata di fanpage con Piazza Pulita, ovviamente fatto per distruggere o tentare di distruggere due partiti che sono il primo, il secondo, il primo, il terzo, non si sa bene il PD dove cavolo sia, c'è dentro anche la Lega. Forse con delle cose ancora più forti di quelle viste con Fratelli d'Italia. C'è un Borghezio che parla di una terza Lega e dice chiaramente, viene accolto da questo barone che bazzica di qui e bazzica di là, dove riesco, riesco. Allora gancia anche questo Borghezio video dove questo Borghezio dice che Salvini è un debole, che va verso Giorgia Meloni che se lo sta pappando in un sol boccone. È un debole, quindi si apre la terza Lega, cioè una Lega nuova, diversa, una frangia di questa Lega che si unisce all'estrema destra. Per la precisione, alla terza posizione, movimento extraparlamentare di evidente area estrema. Ma lui dice, Borghezio, con video, video e parole registrate, lui dice che è tutta un'invenzione di fanpage. Dice io ho parlato di terza Lega ma non c'entra nulla con l'estrema destra, per me la terza Lega è la base, i militanti, a loro mi riferivo. Ma dal video non sembrerebbe proprio, però diamo il beneficio del dubbio. Punta il dito Borghezio, questo intellettuale della Lega, intellettuale lo sto dicendo in modo sarcastico, ovviamente, non mi è mai piaciuto come... Io persone che non si consideravano italiane, diciamo che non è che proprio ho questa stima, ecco, diciamo così. Borghezio punta il dito contro fanpage e dice è molto grave che un attestata faccia fare l'agente provocatore a un giornalista. Sarà molto grave ma l'hanno fatto. Hanno violato la legge? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe. Ci sono delle cose che non mi tornano. Io ho letto, ma non sono un magistrato, non lo so, io non sono un tuttologo. Ho letto, informandomi, che si può registrare qualcuno, videoregistrare, a patto che tu sia coinvolto con questa persona, e va bene, però deve essere in un luogo pubblico esterno, un bar, in strada. E abbiamo visto che ci sono delle intercettazioni in luoghi chiusi, in luoghi al chiuso, però non sono sicuro. Lì ci vuole un giudice, un avvocato. Io non posso, io vi posso dare un'opinione così molto generica, ma fino adesso non ho sentito nessuno che parla di un comportamento giornalistico illegale. Parlano di un comportamento moralmente opinabile, ecco. Il giornalista che è poi costretto a chiudere l'inchiesta quando si fa pressante la richiesta che vedremo in un video successivo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Siamo anche su Facebook, nella pagina TeleItalia, dove trovate i video di YouTube e YouTube Seconda Rete, che sono poi condivisi dopo qualche ora. Ricordatevi che c'è appunto questo TeleItalia Seconda Rete, con video di politica ma non solo, e nella community di questo canale trovate sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti.